6. Il cavallo era riuscito a salvarsi. Il carro, invece, aveva subito parecchi danni. Correndo selvaggiamente da una parte all'altra della strada, l'animale, accecato dal paraocchi, non vide due pilastri di pietra sulla sua destra, e il carro vi si schiantò contro. 7. Si udì il suono delle stanghe che si sfasciavano, mentre il cavallo proseguiva trascinandosi dietro redini e frammenti di legno. Avvertito dai suoi riflessi prontissimi, Ciro balzò giù. Atterrò sulle quattro zampe come un gatto, mentre il carro di paglia si ribaltava nel fosso, le ruote che giravano a vuoto. 8. Sentendosi rinvigorito, dopo la pazza corsa, Ciro si arrampicò fino al bordo del fosso. Le grida disperate di quanti erano rimasti intrappolati sotto il carro gli arrivavano alle orecchie. Ciro sputò sprezzante, mentre il suo unico occhio si riduceva a una sottile fessura. 9. Avanti! Venite fuori di lì, massa di vermi striscianti! Abbaio. 10. Zandarossa! Sgrinfio! A rapporto immediatamente se non volete che usi i vostri teschi per giocare a birilli! I due scagnozzi di Ciro si tirarono fuori dal fosso, scuotendo la testa annebbiata dalla caduta. 10. Squish! La coda, simile a una frusta, li portò velocemente al suo fianco. 11. Tre gambe, sgorbio, sono morti, capo! 11. Morti come sassi! Il carro li ha schiacciati, capo! 12. Idioti che non erano altro, ringhio Ciro. Gli sta bene. E che cosa mi dite degli altri? 13. Il vecchio coda di ferme ha perso una zampa. Alcuni degli altri sono feriti gravemente. 14. Ciro, ringhio. 15. Gli passerà e soffriranno molto di più quando gli avrò dato io una lezione. 15. Stanno diventando troppo grassi e pigri per tutti i diavoli. In una tempesta di mare non durerebbero cinque minuti. Avanti, straccioni morti in piedi! Venite su e radunatevi qui! 16. I ratti si affrettarono ad arrampicarsi su dal fosso e dal carro, ansiosi di ubbidire il più presto possibile al secco ordine ricevuto. Si affollarono intorno al pilastro che il loro capo aveva scelto come punto di raccolta. Nessuno osava lamentarsi per le ferite. Chi poteva sapere di che umore era il signore della guerra? 16. Bene, aprite le orecchie e ascoltatemi, ringhio Ciro. Prima di tutto dobbiamo scoprire dove siamo attraccati. 16. Zanna rossa alzò la zampa. La chiesa di San Nicolò, capo. C'è scritto sul cartello laggiù. 16. Eh, non importa, abbaiò Ciro. Ci servirà da ormeggio finché non troviamo niente di meglio. 17. Strinacchio, ladrone! 18. Eccoci, capo! 19. Perlustrate la zona. Vedete di trovare un alloggio migliore di questo mucchio di pietre. 20. Tornate indietro, verso ovest. Credo che abbiamo superato una costruzione piuttosto grande venendo qui. 20. Agni ordini, capo! 20. Rospaccio, carogna! 20. Capo? 21. Scegliete 50 soldati e vedete se riuscite a reclutare dei ratti che conoscono il territorio. 21. Prendete dei bei ratti forti, ma anche donnole, ermellini e furetti. Potrebbero sempre servirci. 22. E mi raccomando, non accettate obiezioni. Distruggete le loro tane, così non avranno da preoccuparsi di una casa in cui tornare. Se si rifiutano di seguirvi, allora uccidetene qualcuno qua e là. Capito? 22. Tutto chiaro, capo! 23. Furioso, pel di rogna! Prendete venti ratti e trovate dei rifornimenti. 24. Gli altri, dentro la chiesa. 24. Zandarossa, sgrinfio, controllate le armi. Vedete se ci sono in giro degli oggetti che possiamo usare. Inferiate a punta, per esempio. Di solito nei cimiteri se ne trovano parecchie. Avanti, muovetevi! Ciro era arrivato. 7. Martino non era mai rimasto alzato tutta la notte in vita sua. Era solo un po' stanco, ma stranamente eccitato. Le notizie che aveva portato sembravano aver messo in moto grandi eventi. Subito dopo essere stato informato dell'incidente del carro di paglia, l'abate aveva insistito per convocare una riunione speciale di tutti gli abitanti di Redwall. Ancora una volta la grotta era affollatissima, ma ora per un motivo completamente diverso. Costanza e Martino erano in piedi davanti al consiglio degli anziani. Tutti intorno a loro si udiva un fito brusio. L'abate Melchiorre richiamò il silenzio e all'ordine con un campanellino. Attenzione, per favore. Costanza e Martino, vorreste dire al consiglio quello che avete visto stanotte lungo la strada per San Nicolò? Con tutta la chiarezza possibile, il Tasso e il giovane topo riferirono sull'incidente del carro di paglia infestato dai ratti. Il consiglio iniziò a porre delle domande. Dici che si trattavano di ratti, Martino? Che tipo di ratti? Chiese suor Clementina. Grossi, rispose Martino, ma temo di non saper dire di che tipo fossero, né da dove venissero. E tu, Costanza? Beh, ricordo che il mio vecchio nonno aveva conosciuto un ratto di mare, rispose. Secondo la sua descrizione, direi che questi qui ci assomigliavano abbastanza. E quanti ratti c'erano, secondo voi? Chiese l'abate. Non saprei dirlo con certezza, padre. Dovevano essere centinaia. Martino? Oh sì, padre, sono d'accordo con Costanza, almeno quattrocento. Hai notato nient'altro, Costanza? Certo, padre. Il mio sesto senso mi dice che si tratta di ratti davvero perfidi. L'affermazione di Costanza provocò un certo trambusto e si udirono grida come sciocchezze, pure deduzioni e giusto, i ratti sono cattivi. Martino mise fine al frastuono. Alzando una zampa, gridò ad alta voce. Costanza ha ragione, ho avuto la stessa sensazione. C'era un ratto enorme che reggeva un palo con in cima il teschio di un furetto. L'ho guardato bene, era un mostro orribile. Nel silenzio che seguì, l'abate si alzò e si mise di fronte a Martino. Chinandosi leggermente, fissò gli occhi lucidi del giovane topo. Rifletti attentamente, figlio mio. Hai notato qualcosa di speciale in quel ratto? Martino riflette per un momento. Era molto più grande degli altri, padre. E cos'altro? Pensaci, Martino. Ora ricordo, aveva un occhio solo. Il destro o il sinistro? Sinistro, penso. Sì, era al sinistro, padre. E adesso ricordi qualcosa a proposito della coda? Certo, squitti Martino. Deve essere la più lunga coda di ratto che sia mai apparsa sulla terra. La teneva tra gli artigli, come se fosse stata una frusta. L'abate passeggiò avanti e indietro per un po', prima di voltarsi verso l'assemblea. Due volte nella mia vita ho udito dei viaggiatori parlare di questo ratto. Porta un nome che persino una volpe avrebbe paura a sussurrare nell'oscurità di mezzanotte. Si chiama Ciro il Fustigatore. Un silenzio di morte cadde improvvisamente sugli animali riuniti nella grotta. Ciro il Fustigatore. Non poteva essere. Era solo una specie di leggenda popolare, una minaccia usata dalle madri quando i piccoli erano ribelli o disubbidivano. Vai a letto se non vuoi che venga a prenderti Ciro. Finisci la cena, altrimenti arriva Ciro. Vieni subito qui, se no vado a dirlo a Ciro. La maggior parte degli animali non sapeva nemmeno che animale fosse Ciro. Era solo una specie di spauracchio che viveva negli incubi e negli angoli bui della fantasia. Il silenzio fu rotto da gruniti sprezzanti e risate sarcastiche. Gomiti pelosi si piantarono in costole lanuginose. I topi sorridevano di sollievo. Ciro il Fustigatore, figuriamoci. Sentendosi un po' sconcertati, Martino e Costanza lanciarono uno sguardo supplichevole verso l'abate in cerca di sostegno. Il muso rugoso dell'abate Melchiorre era serissimo ed egli agitò la campanella per ottenere il silenzio. Topi di Redual, vedo che tra voi alcuni dubitano della parola del loro abate. Quella frase, pronunciata a bassa voce ma in tono autorevole, provocò dei bisbigli imbarazzati tra gli anziani del consiglio. Fra Giuseppe si alzò e si schiarì la voce. Caro padre, noi tutti rispettiamo la tua parola e guardiamo a te per ricevere una guida, ma effettivamente voglio dire... Sor Clementina si alzò sorridendo, allargò le zampe. Forse Ciro sta venendo a prenderci, perché siamo stati alzati fino a tardi? Un boato di risate accolse la battuta. I peli sulla schiena di Costanza si rizzarono e il tasso emise un ringhio rabbioso seguito da un latrato feroce. I topi si fecero piccoli piccoli dalla paura. Nessuno aveva mai visto un tasso arrabbiato e ringhioso a una riunione del consiglio. Prima che potessero riprendersi, Costanza si era alzata sulle zampe posteriori e aveva preso la parola. Non ho mai visto una tale massa di babbei con la testa vuota. Dovreste vergognarvi di voi stessi. Ridere come degli stupidi cuccioli di Lontra che hanno preso uno scarafaggio. Non avrei mai pensato di vedere gli anziani di Redwall comportarsi così. Costanza inarcò le spalle robuste e si guardò intorno con una ferocia che li fece tremare tutti. E ora ascoltatemi bene. Prestate attenzione a ciò che deve dirvi l'abate. Il prossimo animale che si lascia scappare una parola avrà a che fare con me. Intesi? Il tasso si inchinò con dignità, facendo un ampio gesto con la sua grossa zampa dalle unghie spuntate. Il campo è vostro, padre. Grazie Costanza, mia buona e fedele amica, mormorò l'abate. Si guardò intorno scuotendo la testa con aria seria. Ho qualcos'altro da dire sull'argomento, ma dato che avete ancora bisogno di essere convinti, ecco la mia proposta. Manderemo due topi a presidiare il portone principale. Vediamo... sì, fra Rufo e fra Giorgio. Potreste andare gentilmente a sostituire fra Matusalemme? Per favore mandatemelo qui. Ditegli anche di portare con sé i volumi con i resoconti dei viaggiatori. Non l'edizione di adesso, ma quelle vecchie, usate in passato. Rufo e Giorgio, entrambi topi sensati e robusti, presero congedo inchinandosi rispettosamente all'abate. Attraverso un'alta finestra a feritoia, Martino scorgeva le dita giallorosa dell'aurora infiltrarsi nella grotta, mentre le candeli iniziavano a tremolare e a spegnersi, trasformandosi in mozziconi di cera. Nello spazio di una notte si era passati dalla festa a una situazione di crisi, e lui, Martino, aveva avuto il ruolo di protagonista in entrambe. Prima il grosso pesce, poi l'avvistamento del carro. Grandi eventi per un piccolo topo. Il vecchio fra Matusalemme teneva gli annali dell'abbazia da tempo immemorabile. Era il compito della sua vita e la passione che lo consumava. Oltre alla cronaca ufficiale di Redwall, teneva anche un diario personale pieno di informazioni di grande valore. Gli animali viaggiatori, gli uccelli migratori, le volpi vagabonde, gli scoiattoli girovaghi e i loquaci conigli, tutti si fermavano a chiacchierare con il vecchio topo, godendo della sua ospitalità senza nemmeno sognarsi di fargli del male. Matusalemme aveva il dono delle lingue. Riusciva a capire qualsiasi animale, persino gli uccelli. Era un topo straordinariamente vecchio, che viveva in compagnia dei suoi libri nella solitudine della portineria. Seduto sulla sedia dell'abate, Matusalemme estrasse gli occhiali da una custodia di corteccia coperta di muschio e se li sistemò cautamente sul naso. Tutti si radunarono attorno a lui per ascoltarlo, mentre apriva un annale e parlava con una voce tanto bassa da sembrare un sussurro. Mio caro abate Cedrino, sei Cedrino, non è vero? Oh uffa, tu devi essere il nuovo abate, Melchiorre, quello che è succeduto a Cedrino. Povero me, ne vedo andare e venire tanti che faccio confusione, sai? Mio caro abate Melchiorre, membri di Redwall, mi riferisco a una testimonianza dell'inverno di sei anni fa. Qui il vecchio topo fece una pausa per sfogliare le pagine. Eccolo qui. Nel tardo novembre, nell'anno della castagna piccola e dolce, da uno sparviero intirizzito venuto dal lontano nord, tipo strano quello, aveva un buffo a cento, gli ho aggiustato una penna dell'ala destra. Sono giunte notizie del disastro avvenuto in una miniera, causato da un grande e selvaggio ratto di mare chiamato Ciro. Sembra che questo ratto volesse sistemare il proprio esercito nella miniera. I tassi e gli altri animali che ne erano proprietari li cacciarono. Ciro tornò di notte e con la sua banda di ratti rosicò alla base la maggior parte di puntelli di legno. Il giorno dopo la miniera crollò, uccidendo i proprietari. Framatusalemme chiuso il volume e guardò l'assemblea da sopra gli occhiali. Non c'è bisogno che continui a leggere. Posso recitare altre sue malefatte a memoria. Man mano che le orde di Ciro si sono dirette verso sud, nel corso degli ultimi sei anni ho saputo di altri incidenti. Una fattoria incendiata nel corso dello stesso anno. Un'intera nidiata di porcellini divorata viva dai ratti. Malattie ed epidemie diffuse tra il bestiame dall'esercito di Ciro. Ho avuto persino una testimonianza riferita da un cane di città due anni fa. Un esercito di aveva messo in fuga una mandria di vacche in un villaggio, mettendo tutto a suo quadro e causando grande distruzione. Mattusalemme si fermò e ammiccò da sopra gli occhiali. E voi osate dubitare della parola del vostro abate, il quale afferma che Ciro il fustigatore esiste? Di certo dovete essere degli idioti. Le parole di Mattusalemme provocarono la costernazione generale. Molti agitati si misero a rosicchiarsi le zampe. Nessuno poteva dubitare che dicesse la verità. Era già vecchio e saggio quando molti degli anziani non erano che bestioline cieche e senza pelo, che fignavano e pianucolavano per avere il latte della mamma. Oh per i miei baffi, che disastro! Non faremmo meglio a prendere le nostre cose e trasferirsi altrove? Forse Ciro ci risparmierà. Oh santo cielo, cosa dobbiamo fare? Martino si precipitò in mezzo alla sala, brandendo il suo bastone. Cosa dobbiamo fare? gridò. Ve lo dico io! Saremo pronti ad affrontarlo! L'abate non poté fare a meno di scuotere la testa, sorridendo ammirato. Sembrava che il giovane Martino avesse delle doti nascoste. Perbacco, grazie Martino, disse. Non avrei potuto dirlo meglio io stesso. È esattamente quel che faremo. Teniamoci pronti.